Ciao a tutti ragazze e benvenute nel mio primo video io mi chiamo Lucia, ho 22 anni e sono della provincia di Caserta non so se avete visto il mio primo video, quello che ho caricato quasi un mesetto fa in cui vi facevo vedere alcuni dei miei look mi scuso con voi se in quel video non mi sono presentata di persona ma ho avuto problemi con la videocamera ora però fortunatamente ho risolto questa cosa e quindi ho deciso di registrare questo video cosa voglio fare nel mio canale? io premetto che non sono una truccatrice professionista anzi nella vita faccio tutt'altro però una delle mie più grandi passioni è appunto quella del make up e ho deciso di aprire questo canale per poter dedicare con voi la mia passione scambiarci consigli, idee e quant'altro sui prodotti di trucco mi scuso anticipatamente per la luce perché lo so non è una luce ottimale però cercherò di migliorare questa cosa e cosa dirvi io spero che i miei prossimi video vi piacciono se avete qualche richiesta in particolare scrivetemelo giù nei commenti e se vi è piaciuto questo video magari se volete continuare a seguirmi iscrivetevi al canale e vi volevo chiedere una cosa io nel prossimo video vorrei registrare il tutorial di questo trucco che ho fatto stasera e sto uscendo e quindi ho realizzato questo trucco se vi fa piacere vederlo scrivetemelo appunto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video ciao! 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 ciao!